come potete vedere la mia è un'arte figurativa mi piace molto il colore mi piace molto usare il pennello mi piace molto imprimere le emozioni le figure femminili sulla tela il mondo femminile mi affascina molto perché credo che il mondo femminile è quello che in assoluto da maggiori possibilità di poter esprimere tutti i sentimenti dal sentimento più bello quello dell'amore della passione delle emozioni fino ad arrivare al sentimento della rabbia della delusione comunque mi piace anche molto la figura femminile etnica tant'è che alla prima biennale della creatività di verona ho fatto presentato un'opera che era dedicata alle donne peruviane donne ovviamente la cui pelle è solcata da rughe e solcata dal sole dalla fatica dal lavoro ma che comunque hanno delle grosse delle grandi trasmettono delle grandi emozioni delle grandi espressività che possiamo vedere in questo in questo mio dipinto e ancora ultimamente ho avuto il piacere anche di esporre a dubai con due mie opere grazie 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 grazie